Per noi significa molto perché è un momento importante per accendere i riflettori anche sulla città di Piacenza. Noi siamo eccellenza inogastronomica, siamo eccellenza artistica e culturale ed è giusto che possa esserci un momento in cui effettivamente Piacenza riesce ad aprire lo scrigno dei suoi tesori. E io ritengo che oggi sia davvero una giornata molto importante per questo motivo. E che potrà avere delle ricolleghe di contrarre? Sì, io ne sono sicura, solitamente sono sempre prudente, ma ne sono sicura perché ho visto che là dove Michelin ha scelto la città e è arrivata, poi dal punto di vista dell'immagine e anche della possibilità proprio di far emergere quelle che sono le qualità della città e le ricchezze, il ritorno c'è stato. Quindi io ne sono certa.